Musica Dare cornici e regole, dare i permessi in tempi rapili, realizzeremo entro il 31 marzo per ogni municipalità un'area mercatale di qualità, la piazza Dante l'abbiamo risa un gioiello, prima era un caos, bisogna trovare ovviamente un punto di equilibrio tra le esigenze di tutti, noi saremo vicino ai commercianti che insistono a piazza Dante, in tutte le zone, in tutte le parti della città, soprattutto di quelle che stiamo valorizzando con la ZRTL, perché dobbiamo dimostrare tutti insieme che la ZRTL e la petrolizzazione non solo significano maggiore vivibilità, maggiore sicurezza, maggiore bellezza nella città, ma anche maggior sviluppo economico in termini di vendite, in termini di posti di lavoro. Quindi il nostro massimo, la parte del sindaco, non c'è nessun accadimento, il sindaco è un uomo di pace.